Secondo quanto si dice in Spagna, Florentino Perez, che sta per salutare Ancelotti, anche se forse a sua insaputa perché diventerà il CT del Brasile, sta pensando, come nuovo allenatore dalla prossima stagione, anche a Roberto De Zerbi. Il primo nome per il Real Madrid probabilmente è quello di Xabi Alonso, che sta facendo davvero cose strepitose, si parla benissimo di lui, ma c'è anche De Zerbi tra le ipotesi del presidente Florentino Perez e stiamo parlando di un Real Madrid che punta ad essere ancora più forte, possibilmente anche con l'acquisto finalmente di Kylian Mbappé. Ma come? De Zerbi non ha vinto nulla. Che ha vinto De Zerbi? Non ha vinto nulla, anche se ha portato il Brighton per la prima volta nella sua storia in una competizione europea. Sì, ma quello non è un trofeo, risponderebbero i risultatisti, che però sono risultatisti solo a convenienza perché poi giustificano sistematicamente quegli allenatori pseudo vincenti di una volta che adesso non vincono più nulla. Sarà forse che De Zerbi è veramente bravo? Sarà forse che De Zerbi può rappresentare il più grande rimpianto del calcio italiano di questi ultimi anni? Perché per far fortuna è dovuto andare all'estero e neanche subito in una big, anzi ancora non è in una big, sta rendendo il Brighton una big, che poi sia comunque in Premier League, che è qualcosa di strepitoso, è comunque un salire di livello, è un altro discorso, ma per arrivarci è dovuto andare da tutt'altra parte, e cioè allo Shakhtar, e chissà quanto tempo ci avrebbe messo senza le note vicende per arrivare, anche per un discorso contrattuale, per arrivare appunto in Premier o ad alto livello. Ma di sicuro se fosse stato per il calcio italiano De Zerbi sarebbe ancora dove? Con tutto rispetto al Sassuolo o magari ad un'altra squadra che punta alla metà della classifica, che magari lui avrebbe portato invece in Europa, proprio come ha fatto col Brighton. Il tutto senza neanche nessun tipo di calciomercato, anzi il Brighton i calciatori li ha venduti, i milioni li ha fatti vendendo i calciatori, non acquistandoli decine di milioni di euro, quindi stiamo parlando davvero di un allenatore che riesce a fare cose strepitose a livello di qualità del gioco, di miglioramento dei giocatori, di identità di gioco, di entusiasmo dei tifosi e di risultati sul campo, con poco, o comunque con quello che se lo dai ad un altro allenatore, magari blasonato, e chi ha vinto di più non sa che farsene. Sarà che forse vale questo nel calcio, anche nell'idea di calcio di Florentino Perez, anche nell'idea di calcio del Real Madrid? Presto per dire come andrà, ma il semplice fatto di essere sul taccuino di Florentino Perez è quasi un trofeo, è quasi un trofeo per Roberto De Zerbi, che poi naturalmente sarà libero di fare le sue scelte, magari anche di rifiutare il Real Madrid, non sarebbe il primo a farlo, a quanto dicono. Ma probabilmente la gran parte dei tifosi e degli appassionati di calcio al mondo, e in particolare in Europa, ha la convinzione intima che De Zerbi, sulla panchina del Real Madrid, sarebbe in grado comunque di fare grandi cose. Magari con difficoltà, magari non vincerebbe la Champions League, però sarebbe una parentesi fortunata e soddisfacente per i tifosi dei Blancos. Il tempo ci dirà se possiamo togliere il condizionale. Grazie.